Ed eccoci qui ritrovati per parlare un po' di come è andato questo mercato estivo in giro per l'Europa. Quindi io andrei subito quest'oggi episodio particolare perché andiamo a parlare un po' delle altre squadre che non fanno parte dei top campionati europei. Poi torneremo ovviamente anche da noi in Italia, ma non solo. Oggi tante squadre che per l'appunto non appartengono ai principali campionati europei. Quindi io inizierei con il Galatasaray, il Galatasaray di Buruk che ha fatto 7 punti nelle prime 3 partite e che vi ricordo farà la Champions. Quindi interessante, interessante come squadra e direi che possiamo andare a vedere un po' quali sono stati gli acquisti. Icardi riscattato, devo dire molto molto bene perché già l'anno scorso diversi golletti li ha realizzati e in particolare quest'anno sta facendo benissimo. Benissimo, tanti gol nei preliminari di Champions League, battendo tra l'altro in molde si è garantito il Galatasaray la fase a gironi, grazie anche ai gol di Icardi. E devo dire, tra l'altro un mercato turco che in realtà è ancora aperto, se non sbaglio, quindi potrebbero arrivare altre operazioni. Però il Gala ha preso anche Angelinho, che è un ottimo terzino in Turchia. Ha preso Bakambu, ha riportato Bakambu in Europa, alto attaccante di ottimo livello, ex Olympiacos. Demir Bay, tanta roba, tanta roba anche Davinson Sanchez, che è un centrale di livello. E ragazzi ha fatto una bella squadra, è arrivato Tete, è arrivato Ndombele, Zaa, Ziyech. Cioè signori, il Galatasaray è una squadra completissima, molto valida soprattutto dalla cintola in su, ma non solo perché anche dietro ha gente di livello. Già i colpi dell'ultimo giorno, poi in Ndombele in particolare, e Sanchez al Tottenham, colpi importanti. Cioè, bella bella squadra, che può vincere il campionato e che credo possa lottarsela anche in Champions. Se andiamo a vedere un po' le cessioni, chi è andato via? Alla fine sì, qualcuno di importante è partito, perché Mostafa ha lasciato, però devo dire, molto ben rimpiazzato. Poi Zaniolo, che comunque è arrivato negli ultimi mesi della scorsa stagione, quindi non è questa grossa perdita. C'è tutto ufficialmente anche Moruzhan, Kutlu al Genoa, però per il resto sì, Buffett in Bigomis e qualcun altro. Però operazioni, diciamo, non di primissima fascia per un gala che può fare veramente bene quest'anno. Allora, scorsa giornata, in cui la formazione di Buruk è scesa così in campo, così capiamo un po' anche chi gioca e chi non gioca. Musler in porta, Angelinho, Bardacci, Nelson e Boei in difesa. Demir Baia e Torreira, Mertens, Akhtur Koglu, Tete e Di Cardi. Bella squadra con Zaa, con Ndombele, cioè squadra veramente importante. E a questo punto parliamo anche dell'altra qualificata, in questo caso alla Conference, se non sbaglio, o all'Europa League. Anzi, no, alla Conference League, ovvero il Begiktas. Il Begiktas, allenato dal tecnico Gunesh, tecnico di grande esperienza, mi ha fatto un mercato concentrato anche qui sugli acquisti. Perché in termini di cessioni è partito Saïs, che è andato prima all'Al-Sad, poi adesso milita nell'Al-Shabaab, perché si è trasferito in prestito negli ultimi giorni. Qualche giovane qua e là, però grandi operazioni non ce ne sono state in realtà, di particolarmente, diciamo, devastanti, cessioni importanti non ne ha avute il Begiktas, che però in entrata ha aggiunto la Schizza, ottimo, ottimo esterno per questi livelli. Chamberlain, ottimo centrocampista, grande esperienza internazionale. È arrivato Masuaku, un buonissimo terzino. Zainutinov, riportato dalle parti, comunque in Turchia, bello, bello questo colpo. Ex CSK Mosca, mi piace molto anche Onana. È arrivato Rebic, direttamente dal Milan. Begikt in difesa, altra ottima, ottima squadra che se la gioca con il Fenerbace e con il Galatasaray per la vittoria del campionato, tre realtà, devo dire, molto importanti tutte e tre, che hanno fatto un bel mercato. Devo dire, tutte hanno fatto un bel mercato. Questo è quindi il Begiktas di Gunes, con Guno che importa, Bulut, Omar Collei, che sta facendo una valanga di gol, Uizal e Rosier in difesa, Aziamet, Oxlade-Chamberlain e Fernandes a centrocampo, Mulek, Arashizza e Abubakar. Però, come detto, tante ottime alternative. Zainutinov, Rebic, Gezzal, bella squadra. E anche il Fenerbace. Fenerbace che, invece, farà l'Europa League, se non vado errato, ma non dovrei sbagliare, diciamo. Fenerbace allenato dal tecnico... No, scherzavo, il Fenerbace fa la conference. Fenerbace e Begiktas in conference, Galatasaray, invece, in Champions. Il Fenerbace di Kartal, invece, devo dire, ha confermato di aver fatto un bel mercato. Anche qui, tante entrate importanti. Grosse uscite non ce ne sono state, a parte, ovviamente, quella di Guler, quella di Salai. Però ha perso Bruma, che, per carità, però già Bruma era, se non sbaglio, l'anno scorso in prestito al Braga. Quindi non è una grossa perdita. Ha ceduto by Indir, perdita importante in questo caso, perché si è trasferito allo United per una buona cifra. Diverse cessioni, in realtà, ha perso Enner Valencia, che ha sempre fatto bene. Ha perso Samatta, ha perso Dursun. Quindi, comunque, tante cessioni. Come detto, le più importanti, quella di Guler, che comunque, prima o poi, sarebbe andato via. E quella di Salai, difensore, che ha sempre fatto delle ottime prestazioni. Però, signori, calciomercato in entrata è importantissimo. Solo, diciamo, parlando di Dzeko, potremmo chiudere qui. Giocatore straordinario. Però è arrivato Livakovic in porta, che io speravo di vedere in una top di un campionato importante. Perché lo merita, perché ha fatto un ottimo mondiale. E con tutto il rispetto è sprecato vederlo giocare in Turchia. Però, oltre a lui, è arrivato Muldur, buon terzino. Bekao, sempre dalla Serie A, ottimo difensore. Zimanski, che è un giocatore tecnicamente validissimo e che può fare benissimo dalle parti della Turchia. È arrivato Fred, altro ottimo centrocampista. Under, che anche lui può fare la differenza in madrepatria, in terra turca. Quindi, ecco, anche il Fenerbahce è una bella squadra. Devo dire, sorprendono, sorprendono queste tre turche che faranno l'Europa e che hanno composto, secondo me, delle buone rose. Con tanti giocatori, sì, magari con un passato importante alle spalle. Ma non solo, perché ci sono anche giocatori che sono nel pieno della carriera e che possono dare tanto. Questo, quindi, è il Fenerbahce di Kartal. E Gribaia ti importa. Osterwalde, ex Parma. GQ, Bekao e Osai Samuel in difesa. Juksek, Zimanski e Fred da centrocampo. Caveci, Tadic e Dzeko. C'è Under, c'è Baccioic, c'è Joshua King. Livakovic, tra l'altro, in panchina. Non si sa perché. Bella squadra. Bella, bella squadra. A questo punto andiamo in Olanda. Parliamo di PSG Wendhoven. Partiamo da qui. Ci sono ovviamente tanti olandesi in Europa. Partiamo dal PSV. PSV che quest'anno, vi ricordo, farà la Champions, signori. Una stagione importante. Quest'anno si, diciamo, preannuncia per il PSV allenato da Bosch. Tecnico ex Lione, tra le altre. Ed un mercato. Allora, partiamo dalle uscite. Qualcuno di importante se n'è andato. Perché Sangaré si è trasferito all'ultimo giorno di mercato al Nottingham. e a centrocampo una perdita non di poco conto. Max definitivamente si è trasferito al Francoforte. Gutierrez, giocatore che giocava e non giocava, non è una perdita enorme. Però da registrare la cessione di Xavi Simons che si è trasferito al PSG per una cifra ridicola. Però, per quello che è il valore del giocatore che sta facendo gli sfraceli all'Ipsia. Devo dire, però, tanti investimenti fatti dal PSV, tante spese. In parte, comunque, devo dire, interessanti. Perché se penso a Bella Kochap, penso a un buon difensore. È arrivato Serginio Dest, terzino che può fare benissimo in Olanda. È arrivato Skouten, ottimo centrocampista. Da valutare Pepi, perché è un giocatore che ha bisogno di continuità. Lang fortissimo, grandi doti tecniche e in Olanda può fare molto bene. Ed è arrivato anche Lozano, sempre a completare il reparto degli esterni. Altro giocatore che in Olanda può fare la differenza. Tilman, sono curioso. Giocatore che seguo, a me piace come trequartista. Trequartista fisico, comunque tecnico. Però, da valutare. Questo, quindi, il 4-2-3-1 che propone il PSV di Bosch. Con Benitez-Traipali, Van Anolt, Ramayos, Kauten, difensore e Serginio Dest. Til e Vermann a centrocampo. Saibari, Lang, Bakayoko e De Jong. Bella squadra, c'è anche Bakayoko. C'è Vertesse, un altro ottimo profilo. Hanno tanta qualità nel reparto offensivo. Questo c'è da dirlo e può dargli un grosso slancio per la prossima stagione. Andiamo in casa Feyenoord. Feyenoord di Slot che farà anch'esso la Champions League. Quindi, altra squadra che ha dovuto fare un mercato importante. Ha tenuto tanti giocatori perché ha rinnovato Jimenez. Sono rimasti, diciamo, i pezzi pregiati. L'unico che è partito di importante, e è una cessione pesante, è quella di Koxu. Koxu che è andato a Benfica. Parliamo di un ottimo regista che ha sempre fatto bene in Olanda. E credo sia una perdita non di poco conto per questo Feyenoord. Però per il resto, sì, Pedersen al Sassuolo. Qualche altra operazione minore tra prestiti e cessioni varie. Però non ha perso, chissà che, questo Feyenoord. Danilo è i Rangers, però Danilo ha giocato e non giocato. Perché anche l'anno scorso Jimenez giocava con buona continuità. Ecco, in entrata, devo dire, il Feyenoord ha fatto veramente dei grossi colpi. Perché è arrivato Zerruki, centrocampista di categoria e di ottimo livello. Sempre parlando di giocatori che, comunque, hanno sempre fatto bene e che continuano a far bene Ueda. Sarà l'alternativa di Jimenez, può giocare anche in coppia con lui. Il giocatore che l'anno scorso ha il Cercle Bruges, ha fatto tanti gol. E che sicuramente può rifarli al Feyenoord. Dopo è arrivato Ivan Uzek, che è un ottimo esterno dalla Dinamo Zagabria. Pagato abbastanza, 8 milioni e mezzo, però un ottimo giocatore. Anche Stengs, che ha sempre fatto bene ai tempi della Zed e che torna, in questo caso, con il Feyenoord. E poi registrerei assolutamente l'Inger, che allo Slavia Praga ha sempre fatto bene. E registrerei soprattutto Minté. Dov'è Minté? Che è arrivato in prestito dal Newcastle, Newcastle che lo ha prelevato quest'estate dall'Odense. Eccolo, Minté, giocatore che può fare la differenza. Giocatore che conosco benissimo e di cui sono contento che comunque sia andato al Feyenoord. E ora volgiamo lo sguardo verso la Zed. Allora, la Zed... ma tra l'altro stavo vedendo... ah no, ok. Per un attimo pensavo l'Ajax non fosse in Europa, in realtà l'Ajax farà l'Europa League. Infatti per un secondo... Allora, andiamo in casa a Zed. Allora, la Zed quest'anno mi ha fatto una rosa intrigante. Perché non mi esce... Aspettate che devo andare nella panoramica centrale perché in effetti non abbiamo visto la formazione di questo Feyenoord. Allora, Feyenoord che propone il 4-2-1-3 con Wellen Reut in porta, però ci sarebbe anche Bilow. Hartman, Anjko, Trauner e Gertruyde in difesa. VFR e Timber a centrocampo, Stengs, Ivanusek, Igor Paiksao e Jimenez davanti. Però, come detto, ottime alternative. Minté, Ueda, Lingr, Zerruki. Devo dire, squadra molto molto interessante. Lo stesso Sauer non è male. E a questo punto, come detto, spostiamoci alla Zed. Altra realtà che farà l'Europa. Gioca in conference. Il tecnico Jansen avrà tanto lavoro da fare perché si è perso tanto. Infatti è stata una campagna, più che di acquisti, una campagna di cessioni per la Zed quest'anno. Vedete, ha fatto 45 milioni di profitti. Perché ha ceduto Reinders, ha ceduto Kerkez, ha ceduto Carlson, ha ceduto Beukema. Ha ceduto 4 top, assolutamente. Tra l'altro 3 di questi 4 sono a tennis in Serie A e sono molto contento perché sono ottimi giocatori. Kerkez al Barnemouth, dove potrà fare molto bene, però ha perso dei pezzi pregiati. Quindi non era semplice sostituirli. Sarà una stagione importante di comunque conferma in ambito europeo. Come detto, sarà conference. Non sarà semplice perché hai perso dei pezzi pregiati. Carlson, soprattutto, che è un giocatore che fa la differenza. Diciamo che sono stati sostituiti in parte. Ad oggi non sono giocatori comunque formatissimi, però non lo erano neanche quelli che sono partiti oggi per cifre importate, tipo Reinders. Qualche anno fa non era il Reinders di oggi, ovviamente. Quindi devono essere lavorati. È arrivato Casius dal Bologna nelle operazioni di cui abbiamo parlato. È arrivato Sadik all'ultimo giorno di mercato. Ottimo, ottimo colpo. Ha sempre fatto bene all'Aken. Anche lui lo conosco bene. E secondo me l'Olanda ha le caratteristiche per fare bene. Due giocatori dal Portogallo. Dantas, altro giocatore che conosco bene. E che penso possa integrarsi al top. Così come penetra difensore di giovane età, di livello importante. Poi è arrivato anche Wolfe dal Brann, quindi formazione norvegese. Sempre giovani, quindi continua l'idea nella campagna di trasferimenti comunque di seguire e di prendere giovani. Questa è la formazione proposta dal tecnico Jansen. Ryan in Porta, Wolfe e Ciazzi Diakos che però si è trasferito, come sappiamo, al Cagliari. Basoer e Sugawara in difesa. David Goudmin e Mainans a centrocampo. Van Bommel, Lado e Pavlidis davanti. Tra l'altro c'è anche Pocu, altro ottimo giovane. C'è anche Odgaard, lo stesso Mihailovic. Quindi, ecco, sono sicuramente una squadra interessante, al di là di tante cessioni importanti che sono state realizzate. A questo punto andiamo in casa Ajax, squadra partita malino in campionato, che come detto farà l'Europa League. Un Ajax, che non voglio vedere questo Ajax in classifica. Voglio vedere... Posso vedere la rosa? Mannaggina, mannaggetta. Posso? Posso? Posso, posso. Allora, l'Ajax di Steyn, che tra l'altro si è insediato quest'estate, ha fatto una interessante campagna acquisti. Anche qui rivolta in particolare alle cessioni. Come ogni anno poi si ricavano i frutti del lavoro realizzato nei tempi recenti, perché c'è De Kudus per 40 milioni, Timber per altri 40 milioni, Ezzo Navarez per altri 40 milioni, Basse in Premier League per 23, Darami a Rem, altro ottimo giocatore, per 12. Classen all'Inter, perde anche Tadic, perde definitivamente Weindal, Concei Sao torna al porto. Quindi, diciamo, sono state tantissime le operazioni. In prestito anche un giovane interessantissimo come Fitzgim, direzione Excelsior. E diciamo che si sono fatti tanti soldi, tanti tanti soldi, in particolare 156 milioni di entrate. Però più di qualcuno è arrivato, più di qualcuno è arrivato e sono colpi intriganti. Allora, arriva per il reparto Terzini-Avila, direttamente dall'Anversa, assieme a Sosa, dallo Stoccarda. Quindi si stravolge quel reparto. È arrivato Sciutalo, ottimo difensore che interessava anche a delle big in giro per l'Europa e alla fine è andato all'Ajax. È arrivato il giovane Forbes, da valutare. È arrivato Mikautazze, ottimo attaccante dal Mets, pagato tanto ma secondo me può rendere molto bene. Poi Tairovic dalla Roma, vediamo. E per il resto da registrare sicuramente l'arrivo anche di Van de Bommen, altro giocatore importante, a zero. È stato il primo colpo in realtà che ha realizzato l'Ajax in questa campagna acquisti. E Manswerk, signori, altro giocatore che conosco benissimo e che spero possa trovare spazio perché se lo merita ha le caratteristiche per sfondare Manswerk. Quindi speriamo che l'Ajax possa essere la piazza giusta per lui. Questo è l'undici schierato da Steyn, Gorter tra i pali, Avila, Atos, Sutalo e Rensh in difesa. Tairovic e Van de Bommen a centrocampo con Mikautazze, Forbes, Ilson e Brobei davanti. Squadra molto interessante che è partita male. Tra l'altro c'è anche un altro giovanissimo molto interessante come Goz, il rosa. Come ho detto, partita male in campionato, però ha una rosa completa che può lottare assolutamente per il vertice, signori. Non può tirarsi indietro, deve lottare per il vertice. A questo punto andiamo, classe 2005, giocatore interessantissimo anche lui, prelevato direttamente dal gank, qualche mese fa può fare anche lui veramente veramente bene. Allora, a questo punto andiamo in Grecia. Andiamo verso la chiusura anche, perché comunque il video è venuto abbastanza lungo. In Grecia sono presenti tante squadre d'altà. Sono ben una, due, tre in Europa League e credo basta. Tutte e tre, anzi no, tre in Europa League e una in Conference. Quattro squadre greche quest'anno, tante tante. Partiamo dall'Olympiakos. Allora, l'Olympiakos, ricordo del tecnico Diego Martinez, in uscita qualcuno lo ha perso, perché è andato via Bakambu, ufficialmente. Ha perso Niekuru, ha perso Reabchuk, però di cessioni, diciamo, così, indispensabili non ce ne sono state. Tanti top sono stati confermati, a cui ovviamente vanno aggiunti anche diversi nuovi acquisti. In particolare, soprattutto agli ultimissimi giorni di mercato, è arrivato Gustavo Scarpa, giocatore tecnicamente valido e che può fare molto bene in Grecia. È arrivato Podens, giocatore che ha fatto benissimo al Wolverhampton nel corso degli anni, non tanto poi nell'ultimissima, ultimissimissime stagioni, però è un ottimo esterno. Così come Solbakken, giocatore che può fare bene in Grecia, arriva dalla Roma. Poi, scommesse dall'Argentina, da valutare, è arrivato Jovetic, che comunque resta un attaccante valido, si alternerà a Elkabi, che sta giocando spesso negli ultimi tempi. E per il resto è arrivato anche Porosso, è arrivato Richards, devo dire una squadra molto intrigante, abbastanza completa, di cui credo Diego Martinez non possa lamentarsi per tornare a vincere il campionato greco che l'anno scorso si è perso in maniera molto meritata, perché alla fine lo ha vinto l'AEK, no, il Panathinaikos penso lo abbia vinto, comunque con tanti punti di vantaggio rispetto all'Olimpiakos, quindi quest'anno bisognerà rifarsi. Questa quindi è la formazione che schiede in campo, 4-2-3-1, Pascialaki si importa, Ortega, Ndoi, Rezzos e Quini in difesa, Eze e Camarà, con Biel, Fortunis e Masuras dietro Elkabi. Squadra, ripeto, interessante, c'è ancora l'indomabile El Arabi, che avrà 44 anni e ancora gioca a 36, vabbè, pensavo peggio. Comunque, andiamo a questo punto in casa, AIK l'abbiamo citato, perché la formazione allenata da Almeida si ritrova a giocare l'Europa, è un Europa League in cui tra l'altro è un girone difficilissimo con Brighton, Ajax e Marsiglia, e dove dovrà sicuramente pregare. Allora, di cessioni importanti, in realtà ce ne sono state il giusto, perché l'AIK ha salutato Franson, ha salutato Svarnas, direzione Rakow, Michelin, che si è trasferito al Bordeaux, però per il resto ha praticamente confermato tutti. E questo è già un punto di partenza importante dopo l'ottima stagione passata. In entrata qualcuno di intrigante è arrivato, è tornato in Europa Rodolfo Pisarro, dopo la parentesina MLS, giocatore tecnicamente validissimo. È arrivato Pigneda, ottimo centrocampista. È arrivato Pons, Pons è un altro giocatore che a questi livelli può fare veramente bene. La scommessa Zini, che devo dire mi intriga particolarmente, la scommessa Zini mi intriga particolarmente, direttamente dall'Angola. E quindi è un AIK che non piazza tanti colpi, giustamente, e che propone questa formazione. 4-4-2, Stankovic in porta, Aisafi, Mukudi, Vida e Rota in difesa, Galanopoulos, Zuber, Eliasson e Jonsson, dietro Ponse e Mantalos. Squadra molto interessante, c'è anche Sergio Raujo, quindi bella squadra. Vedremo se riuscirà a confermarsi in alto in classifica in questa Super League greca. Andiamo in casa a Pauk, che ripartirà dalla Conference League, la formazione vicina a Sansone, tra l'altro. È vero perché anche in Grecia il campionato è ancora aperto, ma noi ne parliamo lo stesso. Il Pauk di Lucescu, che in uscita saluta El Caduri, giocatore che conosciamo molto bene. Saluta però anche Douglas Augusto, calciatore che viene mandato via direzione Nantes. Si trasferisce anche Ingason al Mithylland, quindi più di qualcuno lo ha perso in realtà. Lascia anche Lucas Taylor, quindi ecco, diciamo qualche eccessione c'è stata. Ma anche qui tante conferme importanti, più aggiunte di qualità. Perché arriva Marcos Antonio, che fisicamente non sarà un toro, ovviamente. Però è un giocatore che dal punto di vista tecnico, divisione di gioco, nel dettare ritmi, soprattutto in una realtà come quella greca, senza sminuire nessuno, però può fare benissimo. Quindi il colpo Marcos Antonio è un grandissimo colpo. È un grandissimo colpo. Poi, impreziosito da Samatta, che è un buon attaccante, dall'arrivo di Meite, sempre a centrocampo, arriva Trostekong in difesa, Despodov per il reparto offensivo, ex Cagliari attaccante che ha segnato a Valanga in terra bulgara con il Ludogorez. E che ripartirà dal Pauk Salonico, un Pauk che con questo mercato si rivela internazionale. Perché è andato a prendere giocatori da fuori Grecia, soprattutto, e giocatori con anche un certo passato importante alle spalle. Lo stesso Osdoiev, sempre per il centrocampo, bel rinforzo. 4-2-3-1 proposto da Lucescu, con Kotarski in porta, Soares, Michailidis, Trostekong e Kezziora, Osdoiev e Schwab a centrocampo, Constantelopoulos, è lui, no, Constantelias, con Zivkovic e Murg dietro Thomas. Però diverse ottime alternative valide e i nuovi acquisti che devono ancora entrare nelle rotazioni. Chiudiamo con il Panathinaikos, altra realtà molto interessante, nata da Jovanovic, dall'esperto Jovanovic. Quest'anno sarà Europa League e un Panathinaikos che anche qui ha ceduto poco, giustamente dopo l'ottima stagione dell'anno scorso, si è voluto soprattutto confermare. Sì, è andato via Curbelis, direzione Trabzno Spor, Facundo Sanchez, però per il resto cessioni, ecco, non da strapparsi i capelli, ma arrivano anche qui in entrata profili internazionali. Perché è arrivato Vilena, bel centrocampista, che comunque a Salerno ha fatto bene. Arao, che può fare il mediano, può fare il difensore centrale, arriva dal Fenerbahce, è un giocatore importante. È arrivato Djuricic, qualità e inventiva direttamente dalla Samp. Zeka, grande esperienza e tecnica a disposizione di Jovanovic, assieme allo stesso Jedvai, bel difensore, anche lui con esperienza internazionale. Quindi, giustamente, dovendo fare l'Europa, ci sono resi necessari anche colpi che avessero esperienza internazionale per poter giocare l'Europa con, comunque, ambizione. Ecco, questa è la formazione proposta, 4-3-3, con in porta Brignoli, è vero che il Panathinaikos ha Brignoli in porta, Mladenovic, Palmer Brown, Schenkveld e Vagianidis in difesa, Arao, Djuricic e Serina a centrocampo, con Palacios, Cantalapiedra, Spagnolo e, prima punta, il Ponteros, che cazzo sto vedendo di lettere... Vabbè, il Ponteros e Ioannidis, comunque a disposizione, come detto, c'è Mancini, altro ottimo giocatore, Sporar, Bernard... Bernard è quel Bernard, è quel Bernard, quindi, ragazzi, anche il Panathinaikos non scherza, non scherza per niente. Ecco, quest'anno sarà un campionato ai vertici in Grecia molto interessante da seguire, perché, col fatto che sono arrivati tutti in Europa, l'asticella si è alzata, in termini di qualità e esperienza, l'asticella si è alzata e non poco, quindi sarà curioso, sarà veramente curioso. E a questo punto io chiuderei con l'ultima squadra che tutti stavano aspettando, la favola Klaksvik, una favola che merita di essere raccontata. Ho sbagliato a scrivere? Il Klaksvik, formazione delle isole Fire Oer, è ovviamente l'unica rappresentante di questo paese in Europa, allenata dal tecnico norvegese Özet, che, tra l'altro, in campionato sta stradominando, perché vi ricordo che nei campionati nordici tutto è già iniziato da un bel po' di tempo, e vediamo un po', vediamo un po' se c'è qualcuno che riconosciamo, se ci sono altre cessioni illustri, quindi si sono trasferiti diversi giocatori, come Sabala, direzione B36 Tornshav, Olva, dal Fredericia, formazione della seconda divisione danese, qualche cessione il Klaksvik l'ha, diciamo, annunciata. In entrata, allora, in entrata, sono arrivati giocatori curiosi. Gussias dal Sandefjord, calciatore interessante nel departo offensivo. Per il resto è arrivata tanta esperienza con Anson, con Forren, con Olvad, giocatori che saranno da valutare in questo nuovo progetto, la scommessa Hamed dal mobile phone. Vabbè, scusatemi, no, ma che squadra è il mobile phone? Che squadra è il mobile phone? Lasciamo stare bene, diciamo che in Africa ci sono realtà un po' particolari, eh. Ma, vabbè, va bene così. A livello calcistico in Africa ci sono delle realtà un po' così che lasciano a desiderare. Ecco, questo Klaksvik del tecnico Özet, come si schiera in campo? 3-4-3 Johansson in porta, Faero, Forren e Wattensdal in difesa. Johansen, Pavlovic, Andreasen e Danielsen. A centrocampo Da Silva, Frederiksberg e Cassi lì davanti. Quindi, squadra interessante, squadra interessante che sono veramente curioso di vedere all'opera in conference. Masto Klet, Klet, Skard, ha fatto 15 gol ma... Dal Breno? Come Dal Breno? Come Dal Breno, signori? Dal Breno? Questo ha giocato in Italia. Vabbè, vabbè, vabbè. Comunque, chiusa quindi questa parentesi con la favola Klaksvik, con la speranza di vederla giocare e di vederla divertirsi, ecco, in questa esperienza europea. Noi ci vediamo alla prossima e vi saluto. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti.